Il treno regionale veloce 3163 di Trenitalia delle ore 13 per Livorno Centrale è in partenza dal binario 1A, ferma a Pisa Centrale. Il treno regionale 11769 di Trenitalia delle ore 13.10 per Siena è in partenza dal binario 4, ferma a Firenze Rifredi, Montelupo Capraia, Empoli, Castelfiorentino, Certardo, Poggi Bonsi. Il treno regionale 3060 di Trenitalia delle ore 13.10 per Via Reggio è in partenza dal binario 7, ferma a Firenze Rifredi, Sesto Fiorentino, Prato Centrale, Prato Porta al Serraglio, Pistoia, Montecatini Terme, Montecatini Centro, Pescia, Altopascio, Lucca. Il treno regionale 21464 di Trenitalia delle ore 13.11 proveniente da Borgo San Lorenzo è in arrivo al binario 11. Attenzione all'ottanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale veloce 23.11 di Trenitalia delle ore 13.13 per Roma Termini è in partenza dal binario 16, ferma a Firenze Camponarte, Filine Baldarno, San Giovanni Baldarno, Montevarchi, Terra Nuova, Arezzo, Castiglion Fiorentino, Camoci e Cortona, Terontola Cortona, Castiglion del Lago, Chiusi, Chianciano Terme, Fagroficulle, Orvieto, Albiano, Attigliano, Orte, Roma Tiburtina. Il treno regionale 11717 di Trenitalia delle ore 13.16 per Pisa Centrale è in partenza dal binario 1. Ferma a Firenze di Fredi, Le Piagge, Signa, Montelupo, Capraia, Empoli, San Mediato, Fucecchio, San Romano, Montopoli, Santa Croce, Ponte d'Era, Casciano Terme, Cascina, San Frediano VII, Naracchio. Il treno regionale 11679 di Trenitalia delle ore 13.22 per Arezzo è in partenza dal binario 14. Ferma a Firenze Camponarte, Firenze Rovizzano, Compiolpi, Sieci, Punta Sieve, Santellero, Regnano sull'Arno Reggello, Incisa, Filine Baldarno, San Giovanni Baldarno, Montevarchi, Terra Nuova, Bucine, Laterina, Punticino. Il treno Italo alta velocità 99.14 DNTB proveniente da Salerno è diretto a Torino Porta Nuova delle ore 13.17 e in arrivo al binario 9. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Bologna Centrale, Reggio Emilia V, Medio Badana, Milano Rogorego, Milano Centrale, Torino Porta Susa. L'ambiente smart è in testa al treno. Per agevolare l'accesso al treno invitiamo i viaggiatori a disporsi lungo il marciapiede in base alla posizione della carrozza indicata dai monitor, consentendo prima di salire la discesa dei viaggiatori in arrivo. Il treno frecciagento alta velocità 94.91 di Trenitalia proveniente da Fiumicino Aeroporto è diretto a Venezia Santa Lucia delle ore 13.22 e in arrivo al binario 9. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Bologna Centrale, Padova, Venezia Mestre. La prima classe è in testa al treno. Per agevolare l'accesso al treno invitiamo i viaggiatori a disporsi lungo il marciapiede in base alla posizione della carrozza indicata dai monitor, consentendo prima di salire la discesa dei viaggiatori in arrivo. Il treno Italo alta velocità 99.17 di NTD proveniente da Milano Centrale è diretto a Napoli Centrale delle ore 13.25 e in arrivo al binario 12. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma Roma Tiburtina, Roma Termini. L'ambiente Smart è in coda al treno. Per agevolare l'accesso al treno invitiamo i viaggiatori a disporsi lungo il marciapiede in base alla posizione della carrozza indicata dai monitor, consentendo prima di salire la discesa dei viaggiatori in arrivo. Il treno regionale 21.469 di Trenitalia delle ore 13.40 per Faenza è in partenza dal binario 17. Ferma al binario San Marco Vecchio, Fiesole Caldine, Vaglia, San Piero Siepe, Borgo San Lorenzo, Brunta, Craspino dell'Amone, Bifurco, Maravi, San Martino in Gattara, San Cassiano, Fugnano, Brisighella. Il treno regionale veloce 31.58 di Trenitalia delle ore 13.48 proveniente da Foligno è in arrivo al binario 13. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale 11.768 di Trenitalia delle ore 13.50 proveniente da Siena è in arrivo al binario 4. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale 30.55 di Trenitalia delle ore 13.50 proveniente da Viareggio è in arrivo al binario 5. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale 23.361 di Trenitalia delle ore 13.53 per la Spezia Centrale è in partenza dal binario 3. Ferma a Firenze-Rifredi, Signa, Empoli, San Mediato-Fucecchio, San Romano-Montopoli-Santa Croce, Ponte Verra-Casciana-Terme, Pisa Centrale, Pisa-San Rossure, Viareggio, Camaiore-Lidu-Capezzano, Pietro Santa, Forte dei Marmi-Serra-Vezza-Perceta, Massa Centro, Carrara-Adenza, Sarzana, Pezzano-Libure, La Spezia-Migliarina. Il treno regionale veloce 31.71 di Trenitalia delle ore 13.55 per Arezzo è in partenza dal binario 14. Ferma a Firenze-Camponate. Il treno Italo alta velocità 99.95 di NTV, proveniente da Verona Porta Nuova, è diretto a Roma Termini, delle ore 14.05, è in arrivo al binario 8. Attenzione! Allottanarsi dalla linea gialla. Ferma a Roma Tiburtina. L'ambiente Smart è in coda al treno. Per agevolare l'accesso al treno, invitiamo i viaggiatori a disporsi lungo il merce a piede in base a un'acqua.